Arriva l'ingresso di Salvatore Pumo al Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo, un'eredità pesante perché prendere il posto di una ragazza che ha battuto ogni record di preferenze credo che sia anche un peso sulle spalle. Esatto, è così. Prendere il posto della consigliere Calega Roberta non è facile, nel senso perché come abbiamo visto, abbiamo visto tutti, ha preso un buon numero di voti, però facciamo questa esperienza con disinvoltura e sappiamo di dare il contributo anche perché il gruppo è in grado di sostenermi e di aiutarmi in questa prima esperienza politica che vado ad affrontare. Arrivi per la prima volta al Consiglio Comunale, credo anche sia un primo impegno in politica, quali sono gli argomenti che meritano di essere affrontati all'inizio? Cercherò insieme al gruppo, a tutti i gruppi di maggioranza e anche di opposizione perché si deve lavorare per il bene del Paese, quindi di fare qualcosa che sia un trampolino di langio per il Paese e soprattutto penso per il turismo. Penso che poi un pensiero meritino i giovani, insomma, visto che lei è un docente. Soprattutto i giovani perché come ha detto bene sono un docente e quindi bisogna capire i giovani ad aiutarli ad inserirli nel mondo del lavoro perché oggigiorno non è facile. Entra in Consiglio Comunale Salvatore Pumo al posto di Roberta Calega che ha battuto ogni record di preferenze e appunto questo deve far fare una riflessione. Questi quasi 500 Castella Maresi che hanno votato la Calega si troveranno adesso senza un punto di riferimento politico in Consiglio Comunale, è così oppure no? Il punto di riferimento degli elettori di Roberta Calega resta sempre l'amministrazione Fausto, resta sempre il Consiglio Comunale, la coalizione di maggioranza che mi ha sostenuto, compreso i consiglieri comunali che non sono stati eletti. Roberta, ragazza stimatissima che ho conosciuto nel mese di gennaio, ha fatto una scelta di vita, una scelta di serietà. Ricordo che la prima volta che ci incontrammo mi disse guardi dottore Fausto perché fino a quel momento mi dava del lei, guardi dottore Fausto io sono disponibile a candidarmi ma mai si dovrà dire che io mi sto candidando per ottenere la mobilità dalla Lombardia qua in provincia di Trapani. Io sono prima in una graduatoria di mobilità bandita dall'aspe di Trapani e sono certa che nei prossimi mesi, eravamo a gennaio, otterrò la mobilità. Purtroppo sono intervenuti i tecnicismi tipici della nostra Italia in mano molte volte alla burocrazia per cui l'aspe di Trapani poteva in quella fase, subito dopo elezione, dare corso a un comando anziché a una mobilità. Col comando non avrebbero liberato il posto in pianta organica all'aspe in Lombardia e quindi l'aspe in Lombardia non era disponibile a dare il nulla osta. È stata qualche polemica questa mattina nel corso del dibattito su questa surroga? Sono stati degli interventi di rito da parte dell'opposizione come è giusto che l'opposizione faccia. Il ruolo dell'opposizione in generale è quello di incalzare la maggioranza, di incalzare l'amministrazione e anche questa mattina è stato fatto dai consiglieri di opposizione in modo molto educato, molto sereno, molto tranquillo.